Ciao a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto sul mio canale interamente dedicato al cinema. Encanto, sessantesimo film Disney del 2021. Questa recensione sarà senza spoiler, in modo tale che tutti possano vederla e decidere se andare oppure no a vederlo in sala. Vorrei fare un resoconto di tutte le cose che mi hanno convinta e delle cose che non mi hanno convinta di questa pellicola. Ma direi di iniziare subito con la trama. Encanto racconta la storia di questa famiglia straordinaria, ossia i Madrigal, che vive in una casa magica immersa in un luogo incantato, chiamato per l'appunto Encanto. E la magia di Encanto ha donato ad ogni bambino della famiglia Madrigal un potere, un talento unico, tranne a Mirabelle, la protagonista della storia. Mirabelle è l'unica senza potere, eppure sarà l'unica a rendersi conto che la magia di quella casa è in pericolo. E deciderà da sola di affrontare la situazione per salvare la sua famiglia. Ce la farà? Chi lo sa, lo scoprirete solo al cinema. Partirei subito con le cose che mi hanno convinta, ancora prima di guardare il film, ossia l'estetica. Io già dai trailer ero affascinata da tutti questi colori super brillanti e vivaci. Anche i costumi sono veramente bellissimi, sono super dettagliati, così come ogni altro elemento estetico all'interno della pellicola. L'animazione è inutile quasi specificarlo, è praticamente perfetta, e particolarmente sorprendente nelle scene musicali. Questo lo devo specificare, questo film è un musical a tutti gli effetti. E ogni canzone ha una sua funzione all'interno della storia, perché serve ad evitare degli spiegoni che magari potrebbero risultare difficili da capire per i più piccoli. Quindi ci sono questi balli, questi canti molto allegri, dinamici, vivaci, che sicuramente piaceranno molto ai più piccoli. Sempre visivamente parlando, ci sono molte scene e dettagli che mi hanno ricordato altri prodotti Disney, ad esempio Frozen 2, Oceania, oppure Coco della Pixar. Con quest'ultimo, oltretutto, ho trovato molte somiglianze, anche per quanto riguarda i personaggi. Anche solo partendo dalla protagonista, mi ricorda tantissimo Miguel, perché anche Mirabelle è l'esclusa della famiglia, anche Mirabelle ha questo desiderio di riscatto. A proposito di famiglia, questo è il tema centrale del film, nulla di nuovo, solo che rispetto ad altri film Disney si parla di una famiglia molto più allargata. Ci sono tantissimi personaggi, i quali sono anche in conflitto tra di loro, esattamente come può succedere in ogni famiglia. E ogni personaggio è molto caratterizzato, anche se onestamente penso che alcuni di loro siano un pochino inutili per la storia, però in ogni caso non tutti vengono approfonditi. Altri invece sì, vengono approfonditi insieme alla protagonista e la loro crescita l'ho trovata molto interessante per essere un prodotto comunque per bambini. Ecco, diciamo che toccano con questi personaggi molte tematiche, alcune delle quali particolarmente profonde e delicate. L'unica cosa che non mi ha convinta molto del film è purtroppo la storia. Io non sono una sceneggiatrice, quindi non so se effettivamente è una storia scritta male, se c'è qualcuno esperto tra di voi mi corregga, però personalmente parlando non mi sono emozionata così come magari mi sono emozionata con altri prodotti Disney. L'ho trovata una storia scontata, nel senso che ho capito sin dal primo o secondo come sarebbe andata a finire, e lo dico da persona che solitamente non capisce nulla, cioè non capisco mai come va a finire un film, anche se mille altre persone l'hanno capito. Questa è la prima volta che mi succede e che capisco fin da subito come andrà a finire e come andrà avanti la storia, perché comunque è una storia già vista, non è nulla di nuovo. Perciò direi che è un film che non mi ha convinta totalmente, ma ci sono tante cose che comunque salvo, perché sono oggettivamente molto belle. Ora vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo film, se l'avete visto oppure no, cosa vi aspettate, insomma vi aspetto nei commenti così ne parliamo insieme. Io vi ringrazio tantissimo se mi avete ascoltata fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video.